Buongiorno amici e amici di Volonbright, io sono Noemi, siamo qua con la protezione civile per una città resiliente al Parco Le Vallette. Siamo con i volontari della protezione civile in che ambiti? Allora, l'ambito del quale ci occupiamo noi in questo momento è la segreteria di campo, ma ovviamente come potete vedere il campo è strutturato in diverse attività e ognuno di noi è specializzato in attività di questo genere. Lei ad esempio? Io, come dicevo prima, sono specialista in segreteria di campo, quindi è un po' quella che è l'amministrazione del campo. Mentre voi? Lo stesso come lui. Facciamo parte dello stesso gruppo anche noi dalla segreteria di campo, anche se diciamo le provenienze, però siamo diversi nel senso del reparto. Io e noi faccio parte del gruppo volontario di Settimo Torinese, però in questo caso partecipo al coordinamento di Torino. Cosa ne pensate di questo evento? Questo è un evento che io vedo e partecipo a questo evento per la prima volta, ma credo che sia anche la prima volta che viene organizzato. Credo che sia una cosa molto importante divulgare alla cittadinanza, alla popolazione, quello che la protezione civile può essere, può diventare. E in qualche modo il territorio viene a conoscenza che ci sono delle potenzialità che operano proprio per la sua sicurezza e la sua salvaguardia. Quindi è decisamente importante che noi ci si faccia conoscere e che la popolazione ci conosca. Oltre ovviamente alle varie, purtroppo, ai vari interventi che sono relativi alle varie catastrofi, terremoti piuttosto che all'alluvioni e così via. Ma è importante anche qualcosa come questa, che è un qualcosa di forse più gioioso, il che fa piacere a tutti. Bene. Allora grazie a tutti voi e arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.